Renzi si è deciso e fuori dal Partito Democratico. L'ex premier fonderà un movimento a sé, ma comunque sarà d'appoggio al secondo governo Conte. Renzi infatti è stato uno degli attori fondamentali per il raggiungimento dell'accordo che ha portato alla nascita del governo giallorosso. Oggi nasce un nuovo soggetto politico che è tutto da costruire, che vuole abbracciare tutte quelle persone che oggi non si sentono rappresentate dal Partito Democratico e vogliono trovare una nuova casa che sia accogliente e dove insieme si possono scrivere nuove pagine per il futuro del nostro paese. A noi alla Leopolda, che ci sarà tra il 18 e il 20 di ottobre, lanceremo il nostro programma. È un programma che vogliamo scrivere insieme ai cittadini che fanno una domanda di futuro. Cosa significa una domanda di futuro? Significa dare nuove opportunità ai giovani, pensare a fare tornare a crescere questo paese con misure che stiano a cuore di quelle persone che ogni giorno si svegliano, vanno a lavorare, producono. Penso ai giovani imprenditori, penso al manifatturiero che è un settore che è ancora in crisi. Insomma, ridiamo speranza all'Italia, l'Italia che vuole ripartire, l'Italia che ce l'ha fatta, l'Italia che vuole dire di sì. Questa è l'ennesima scissione in seno al centro-sinistra, resa nota soltanto nelle ultime ore, ma che era già nell'aria da almeno 20 giorni. Ovviamente vi sono ripercussioni anche nel PD abruzzese, dove diversi esponenti sono già pronti a passare al nuovo partito, di cui ancora non si conosce il nome, ma che forse si chiamerà l'Italia dei sì. La formazione che sta nascendo non vuole mettere in crisi assolutamente il governo, anzi lo vuole rafforzare. La nostra idea è proprio quella di essere un pungolo di avanguardia nelle elaborazioni di questo governo. Io penso che il governo Conte II è una grande opportunità, l'opportunità di far tornare a crescere il paese. Non ci dobbiamo però perdere nelle liturgie che ci sono nel Partito Democratico. Il Partito Democratico spesso è un partito che è poco accogliente rispetto a quei giovani che magari si vogliono sentire rappresentati o magari hanno delle buone idee da mettere al servizio della politica e non ci sono riusciti perché le dinamiche della politica, soprattutto nel PD, spesso allontanano più che avvicinare.